Mi concede spazio il Werder, ora un po' di pressione e subito il Barcetet, ancora un errore, la profondità per Stoichkov, è rientrato nell'ultima gara della Liga con l'Alba 7, gara vinta dal Barcellona. Stoichkov, rinuncia al passaggio per Bacchero, poi chiede il triangolo, è tardi, di prima il tocco di Eusebio, buono il movimento di Guardiola, l'assistenza di Guardiola per Stoichkov, Rek si salva e poi non può evitare il calcio d'angolo. Sale Goico e Cea, al centro Stoichkov pronto a ricevere il passaggio, scivola Rek, interviene fuori dall'area di rigore. Il vento di Rek, appena fuori dall'area di rigore, davvero sfortunato Rek, scivolato, era in netto vantaggio su Stoichkov. Trova Stoichkov ed è il gran gol del Barcellona. Conferma tutta la sua straordinaria qualità tecnica Stoichkov, che appare in gran serata, è stato fermo in mancina, verso l'angolo non protetto. Non è riuscito ad improvvisarsi tutto. Amor, Stoichkov, stavolta all'altecce. Amor, Stoichkov. Tutto da rifare dunque per il Barcellona. Stoichkov, recuperare su Wolter. 1-1 all'andata, 1-1 al 44esimo del primo tempo, tra Barcellona e Barcellona. Ancora emozioni, lo scadere del primo tempo. Ha seguito l'azione Stoichkov. Nadal è diventato adesso il difensore laterale di sinistra. Stoichkov, Gundelach. Estrarre su Koeman. 46 minuti 34 secondi del primo tempo. Stoichkov. Spazio per Laudov. Stoichkov. Stoichkov contro Wolter. Ha ragione il bulgaro. Il tiro di Stoichkov. Gundelach. Restinge. 4 contro 3. Laudov, Stoichkov. Ancora di sinistro. Gundelach non trattiene. Gojkocea in rete. Epp ancora di esterno. Un'intesa splendida. Laudov, Stoichkov. Ancora Gojkocea. Non arriva. Undoven e il Barcellona. L'impresa era riuscita in precedenza a Belodedic. Nadal. Ho sbagliato Begiristein. Recupera Koeman. Stoichkov. Un gran primo tempo. Abbiamo sottolineato poi Laudov. Brasset su Stoichkov. Stoichkov. Stavolta è Laudov il destinatario del passaggio. Begiristein, Stoichkov. Il problema adesso è di Volter. Contro Stoichkov. Begiristein controlla dentro l'area. Gundelach. Subito Begiristein per Stoichkov. Soluzione prudente del Vultilità. La squadra in blaugrana. Stoichkov va giù. Coltingiostino avanti. Cambia. Per Stoichkov. Troppo in avanti. Poi ha tentato di rialzarsi ma ormai ha perso il tempo per la conclusione. Stoichkov. Nazionali. Due Supercoppe di Spagna. Una Coppa dei Campioni. Tre Coppe delle Coppe. Tre Coppe delle Fiere. Inoltre il Barcellona può... che non è soltanto numerica. Il Barcellona. Stoichkov. Begiristein. Deve inventare una finezza. Per Begiristein che prova il pallonetto di testa. Viola. Che vede il bulgaro a sinistra. Clamoroso di Opsch. Incredibile. Palla goal. Sciupata. Ed ora Gundelach. Un anticipo. Guardiola. Stoichkov. Il tunnel di Stoichkov. C'è l'Audrup. Passaggio. Stoichkov. Begiristein. Laudrup. Stoichkov. Di sinistro. Diagonale fuori. Trentaduesimo. Lofs segnò il gol del pareggio per il Werder Bremer. All'ottantaseesimo minuto. Goico Ecea. Laudrup. Laudrup. Lanciato da Stoichkov. Irregolare. Stoichkov. Di potenza. Da lontano. Begiristein. Stoichkov. Affonda meno. Adesso Eusebio. Amor. Stoichkov. Gli dà una mano Laudrup. Ma gli porta vicino anche Eilf. Ed è proprio il 7. Per Koeman. Lofs. Poi Nadal. Goico Ecea. Stoichkov. Stoichkov. Questa volta parte in velocità. Stoichkov. Deve fermarsi. Brasset. Pinta di là. Eusebio. Ha sempre molte soluzioni. Il Barcellona. Gundelach. Sul colpo di tempo. Stoichkov. È finita. Dice il direttore di gara svedese. Il Barcellona conquista per la prima volta nella sua prestigiosa storia la super europea. Uno a uno.